Ciao Antonio, buongiorno, ti mando questo video perché mi sembra il minimo che io possa fare per riconoscere quello che è stato il valore aggiunto che tu hai portato nella mia vita lavorativa. Faccio un breve escursus, noi ci siamo conosciuti, era 2008, l'inverno tra il 2008 e il 2009, dove io facevo parte di un'agenzia Telecom Italia formata da un centinaio di venditori più o meno e io vuoi o non vuoi, seppur con molto impegno e con una formazione importante alle spalle perché comunque venivo da 7 anni di vendita di aspirapolveri e comunque non riuscivo mai a primarizzare. Insomma abbiamo fatto questo corso, ti riconto che parlando in termini di fatturato, fatturavo forse 2.000, 2.200 euro, abbiamo fatto questo quindi, parlo di una trentina di pezzi su per giù, 30 pezzi, 30 prodotti, servizi venduti. Niente, abbiamo fatto questo corso, due giorni di full immersion, quasi un ritiro spirituale su un cucuzzolo di una montagna a Torino, il mese dopo ho fatto 58 pezzi, quindi ho raddoppiato il fatturato, il mese dopo ancora è stato il mio miglior mese, 146 pezzi, ti parlo di 13.000 euro di fatturato e poi di lì comunque sono sempre stato nel range tra i 50 e i 100 pezzi. e niente, di lì diciamo che è sbocciato un po' quello che può essere l'ammirazione e l'amore professionale per quella che è la tua figura. Tieni conto che il bello appunto di quel corso è che ho avuto la possibilità di replicare quel metodo, di aprire un'agenzia e di formare dei venditori quasi a immagine e somiglianza di quella che potesse essere la tua scuola. E comunque insomma i miei venditori non sono mai scesi sotto i 50 pezzi, hanno fatto anche loro mesi piuttosto importanti dove sono arrivate a staccare fatture anche di 8-9.000 euro, 10.000 euro. Quindi sicuramente grazie per quello che mi hai insegnato e grazie per avervi dato la possibilità di replicare un attimino quello che è il tuo metodo. Certo, fatto da te ha tutto un altro effetto, però insomma non male. E niente, noi poi ci siamo rivisti un mesetto fa, abbiamo fatto 3 sessioni di coaching perché purtroppo nella mia vita imprenditoriale ho incontrato delle persone che mi hanno fatto una bella proposta sulla carta, ma brutta inconsistenza, quindi mi sono ritrovato senza gente, senza azienda, senza call center, brutte storie. Niente, ti ho chiamato nell'arco di 3 settimane, abbiamo rimesso sul call center, abbiamo formato 5 venditori da più o meno al momento 50 pezzi, però anche loro penso che potranno raddoppiare il fatturato. Abbiamo chiuso il mese comunque a 380 pezzi che non è affatto male, soprattutto nel momento storico in cui io mi trovo, dove ci siamo dovuti reinventare il call center, reinventare la vendita, reinventare il procacciamento dei clienti, reinventare tutto. Comunque, nell'arco di 3 settimane, grazie a te, questa azienda è ritornata a fatturare e soprattutto è andata in attivo nell'arco di molto poco. Io con questo spero un po' di aver riassunto quello che è il valore aggiunto che tu hai portato all'interno della mia azienda e spero che questa testimonianza possa aiutarti, anche se in realtà sono un po' geloso di quella che la tua figura professionale. Meno aziende ti conoscono, più mercato c'è per chi ti conosce. Detto questo io ti faccio tanti tanti auguri di Buon Natale e ci vediamo lunedì. Ciao!